Cosa sta succedendo? Abbiamo fatto l'accesso agli atti e ai progetti esecutivi della metro C tratta T3 da San Giovanni al Colosseo e abbiamo scoperto che tutto il verde pubblico da San Giovanni a Porta Metronia verrà totalmente distrutto. Perché verrà distrutto? In parte per fare gli scavi, in parte in maniera assolutamente pretestuosa, ad esempio tutto questo filare di platani piantati dopo la guerra verrà distrutto, i giardini verranno cementificati per mettere il cantiere logistico. Abbiamo scoperto questa cosa che metteranno sotto le nostre finestre i generatori e le macchine per pulire l'olio della talpa. Questo è un giardino adottato dai bambini del quartiere, curato da loro nei fine settimana, piantate le piantine con i loro soldini e l'aiuto dei nostri genitori ovviamente e tutto questo verrà distrutto. Chiediamo ai nostri politici, chiediamo al sindaco Ignazio Marino, chiediamo al presidente di questo municipio settimo, Susanna Fantino, latitante, mai risposto alle nostre richieste d'aiuto, perché sono stati tutelati i diritti dei privati, cioè le concessioni sportive su terreno comunale, proprietà del comune di Roma, vale a dire Romule e Tennis Roma, a discapito del patrimonio ambientale di Roma, della salute e dei cittadini. Perché venissero qui a darci una risposta, venissero a parlare con i nostri bambini e spiegare che cosa è più importante per loro. Il discorso degli scavi archeologici eccetera, ma il dissestro ideologico ci hanno pensato? Non a caso i romani hanno fatto Caracalla dove l'hanno costruita, qui ci sono i fiumi sotto, dove vanno? Già hanno fatto un macello col pulpo che hanno costruito. Nessuno vede il sottosuolo, mi ricordo che a miei tempi un assessore diceva che le fogne non si vedono, per cui non le pulivano. Adesso nessuno vede i fiumi, però in qualche modo la natura poi si ribella. Signora lei abita in una zona? Io sì, da quando sono nata e mi ricordo questo quartiere quando era uno dei più vivibili di Roma. Ma quando dovrebbe essere prevista l'ultimazione di questi lavori che dovrebbero stare per cominciare? Secondo me non inizieranno neanche. Hanno cantierizzato evidentemente per motivi prettamente economici penso. Ci sono tanti altri progetti che forse non creerebbero questo dissesto. Quello che non mi piace è che ci sia iniziata la protesta adesso quando doveva essere iniziata mesi fa. Adesso può essere anche per testuosa. Grazie. Sì, abito nella zona, non proprio su questa strada, ma siccome io sono a favore della natura, quando dobbiamo scarificare la natura, per un progresso discutibile, io se permette cerco di salvare la natura, di salvare gli alberi, perché qui per crescere un albero del genere ci sono voluti cent'anni, e dopo cent'anni qualcuno si è ricordato di questi alberi, quindi come stanno bene le cose non le conosco sinceramente, però presumo che qualcuno vuole tagliare gli alberi. E questo non sta bene perché qua già di verde ce n'è poco, sia qui e sia a Roma. E qui non possiamo vivere una giungla d'asfalto. A un certo punto a metropolitana non penso che non si può ovviare il passaggio da un'altra parte. Allora io penso che sotto è tutto libero, c'è tanta strada qui sotto. Io sinceramente l'avrei fatta mettere la stazione dove sta il via Sagno e dove sta l'ex deposito della Stefer, che sembra che l'ha occupato Lama, ma Lama... Allora è l'ha occupato Lama, mi dice la signora, quindi Lama poteva restare benissimo dove stava prima.